Iniziano le vendite promozionali di fine stagione. I saldi estivi 2024 aprono i battenti proprio in queste ore. Un'occasione per acquistare capi d'abbigliamento, calzatori e accessori di ogni genere a prezzi ridotti. Secondo le stime dell'ufficio studi di Commercio, quest'anno ogni famiglia italiana spenderà in media 202 euro per l'acquisto di articoli in sconto. Si parte oggi 6 luglio, saldi che andranno avanti per 60 giorni. A Napoli, boutique e negozi di Via Toledo e Via Chiaia hanno fatto già registrare buone presenze di clienti, anche se come spesso è accaduto si parte comunque tra euforia e scetticismo. Secondo lo studio dell'Unione Nazionale Consumatori per l'abbigliamento e calzature nel loro insieme, lo sconto sarà del 19,8% come nel luglio dello scorso anno. Il solo abbigliamento, indumenti e accessori registrerà un abbassamento medio dei prezzi del 20%. Il record della convenienza spetterà però agli indumenti con una riduzione del 21,7% mentre la diminuzione è minore di prezzo come sempre per gli accessori come guanti, cravate e cinture con una flessione dei listini dell'8,9% superiore però alle ultime tre rilevazioni. Le calzature segneranno un ribasso del 18,3%, meno del 18,6% di questo inverno e più del 17,3% della scorsa estate.